William Di Marco, siamo entrati definitivamente nel periodo elettorale qui a Roseto degli Abruzzi in vista delle elezioni che ci saranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. Che corsa sta facendo William Di Marco con il suo centrodestra? Inizialmente partiti un po' in ritardo, però ora si stanno unendo con le liste quasi definitivamente completate. Sì, il problema delle liste è ovviamente un problema generale perché non dimentichiamoci che in questa tornata elettorale ci saranno cinque candidati sindaci tante liste, quindi anche le persone che si mettono in gioco non ne sono così tante. Questo è un dato che fa un po' riflettere la politica. Poi probabilmente inizierà, anzi sicuramente inizia la vera campagna elettorale nel senso che ci saranno incontri e quant'altro. Come ci stiamo organizzando noi? Noi siamo l'unica rappresentanza di un centrodestra unito. Come abbiamo già più volte sottolineato è stata la condizione sine qua non per far sì che potesse scendere in campo con questa formazione il centrodestra, cioè che fosse unito. E noi realmente siamo uniti, stiamo facendo dei piccoli step, dei piccoli tagliandi, man mano proprio per andare in modo univoco tutti insieme. Ieri sera ne abbiamo avuto uno che ancora di più ha unito questo centrodestra in tutte le tue parti, comprese anche quelle minoritarie, perché è vero che c'è Forza Italia, Fratelli d'Italia e La Lega, che sono l'ossatura fondamentale, ma ci sono tante altre piccole realtà, ovviamente nazionali, che hanno appoggiato il progetto. Vale per Coraggio Italia, vale per Rinascimento di Sgarbi e vale per l'Udc. Ma ci saranno anche altre piccole novità che da qui alla fine, proprio alla presentazione delle liste, potremmo poi annunciare. Fatto sa che il centrodestra è unito e dall'altra parte c'è un centrosinistra, ovviamente con diverse anime e che quindi saranno i nostri competitor tutti e credo che non ce ne sia uno favorito rispetto agli altri.